ci troviamo con Davide Stoffe direttore di Marcia Longa citiamo in questo caso ai mondiali di Schirol ma insomma la testa e il lavoro già è bella avanti no? Per verso la Marcia Longa. Eh sai come Marcia Longa come anche tutti gli altri eventi insomma si lavora un anno per un giorno quindi sì siamo in in un buon momento anche dal punto di vista della dell'organizzazione gli atleti ci sono insomma naturalmente i top non mancheranno ma soprattutto gli amatori vediamo un buon un buon riscontro insomma direi quasi normale come un anno pre covid mettiamola così eh no no il termometro dei fondisti è positivo insomma noi anche speriamo che l'autunno proceda nella giusta maniera l'organizzazione come abbiamo detto insomma è già è già avanti quindi siamo siamo in linea con quello che deve essere e aspettiamo un po' il meteo che che volga verso l'inverno con la calma giusta insomma basterebbe novembre e niente insomma quindi siamo fiduciosi per un buon inverno. Quanto è complicato organizzare un evento in un periodo come questo e in realtà che risposta ti aspetti una volta che si potrà ricerci aspetti una grande risposta nei momenti cui si avrà la certezza di un evento aperto? Ma la difficoltà è proprio questa è proprio non avere una certezza poter programmare con un po' di tempo insomma anche per fare un po' di promozione insomma del del nostro evento sia della gara ma anche di tutto quello che orbita attorno. La risposta in realtà come detto c'è già nel senso che abbiamo ancora un paio di centinaia di pettorali e poi in realtà le iscrizioni sono chiuse quindi come dicevo il termometro dei fondisti è buono insomma nel senso che hanno voglia di venire soprattutto dall'estero abbiamo tantissimo interesse dalla Scandinavia o fino come un po' fino a due tre anni fa insomma quindi decisamente positiva la cosa ecco vediamo insomma siamo un po' in balia di quello che succederà l'autunno lo sappiamo bene insomma l'esperienza dell'anno scorso è fondamentale noi siamo pronti sia per un'edizione come fatta l'anno scorso che ci auguriamo che non sia così ci auguriamo di poter tornare un po' come abbiamo visto la Marcia Longa Running due tre settimane fa insomma che si può tornare a fare un evento un po' come come era prima insomma ecco e alla fine volevo chiederti qual è il segreto di Marcia Longa tutta questa passione da parte della della Norvegia tanti norvegesi che sognano di venire qui di gareggiare anche anche tanti grandi atleti norvegesi abbiamo visto Peter Nortug qualche settimana fa e so anche qualche atleta italiano ancora in Coppa del Mondo che sogna un giorno di poter gareggiare nella Marcia Longa ma quando mi fanno questa domanda è sempre difficile rispondere ogni tanto ci pensiamo ci pensiamo anche noi a quello che a cosa è veramente il segreto che sta dietro a Marcia Longa e credo che sia un po' tutto cioè da l'ambiente a star bene chiaramente il percorso i tanti volontari che ci mettono come oggi insomma una passione infinita per qualcosa che non è loro ma che è di tutti e questo poi viene apprezzato anche dagli atleti perché un sorriso quando prendi un tè al al ristoro piuttosto che alle medaglie è forse è ancora più importante che non la medaglia stessa sicuramente il territorio è fantastico l'organizzazione dopo 50 anni è assolutamente perfetta o quasi insomma c'è sempre a migliorare però direi che va alla grande è un mix di tantissime cose insomma ecco credo non ci sia un vero segreto uno ma sono un mix di tantissime cose che fanno sì che Marcia Longa è quello che è insomma che si descrive con il nome Marcia Longa la chiami e hai già capito tutto insomma grazie a tutti grazie a tutti